Devo buttarmi in un cassonetto della monnezza e poi basta? Dov'è lo stile? Ma siete sicuri? Un momento, ma devo buttarmi in un cassonetto della monnezza e poi nella paglia. Ci provo, ci provo, ci provo. Vado fattoria, vado fattoria, vado fattoria. Sì sì, prima la paglia poi nel cassetto. Vado. Ci provo, ci provo, ci provo, ci provo. Ci provo. Ciao Edozul! Non mi ha veramente caricato la miniatura? Ma l'ho rimessa. Perché non ha caricato la miniatura del dorso, sto stronzo? No, 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 l'ha caricata, l'ha caricata. Non la vedete perché non avete la cache aggiornata. Sì, non faranno un cazzo quei video lì, eh, ragazzi. Fattoria. Eh, si stanno iscrivendo tutti, porca, porca, porca. Allora, ultimo video. Non ce la faccio. Io a questi ritmi non ce la faccio. Non fare il pesce lesso. Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone. Dai! Yeee! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuderone e per completare finalmente anche gli stili della skin Sorana dobbiamo fare due passaggi molto veloci che si fanno proprio nella fattoria. Il primo è di entrare in un cassonetto della monnezza. E come vedete, stile segreto per i costumi scoperti. E il secondo, ragazzi, è quello, molto molto rapidamente, di entrare in un covone di paglia. Insomma, ragazzi, facilissimo sbloccare gli stili di Sorana. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video. Un bel pollizioni in su. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in live su Twitch. Ciao! Ciao!